Ma dopo tanta preparazione si scende in campo, com'è l'atmosfera? Eh carichi, è vero che c'è tanta voglia di iniziare dopo due mesi di preparazione, abbiamo lavorato tanto, lavorato anche molto bene, penso che adesso siamo pronti e siamo molto carichi per iniziare. Tu sei sicuramente tra i sei titolari e hai anche già un anno di esperienza a Modena, che cosa ti aspetti dalla tua stagione? Aspetto di fare molto bene, provo di sempre dare il massimo in campo e come l'ho sempre detto, prendere partita dopo partita e vincere tutto quello che possiamo vincere. Come hai trovato il tuo compagno Sam Deru dopo gli europei? Bene, bene, no, sempre uguale, ci troviamo molto bene tutti e due, ha fatto un bel europeo e no, in forma sta bene. Ravenna l'anno scorso qua a Modena fece uno scherzo a tutti vincendo, quest'anno è da non ripetere magari? No, no, no voglio, comunque la squadra è cambiata tanto a Ravenna, tanti giocatori sono andati via, sono arrivati altri, anche qualche francese che conosco bene, però penso che abbiamo tutto per fare molto bene da domenica e lo vogliamo fare vedere in campo.